ciao, buongiorno, allora, aspetta, ok, allora, bentornati, oggi è lunedì, giorno di merda come sempre, questo ormai lo so, dobbiamo, la missione di oggi è spostare prima i cosoli del nether, poi, e lo dovremmo spostare un po' più vicino al caso, l'ho spostato lì, lì, qui, non posso correre, che cosa brutta, non c'è lo cibo, c'è delle carote qui, non si sente niente, mettiamo un bel volume, ma si tende troppo una via di mezzo va bene sempre, però, eccolo, qui, qui giù, è un brutto posto dove l'ho messo, perché, uno, è buissimo, due, sì, c'ho un piccone di netherite ma l'ho girvato le ultime volte, perché non avevo voglia di farmi quelli che erano deboli eccolo, ed eppure spendo, perché prima sentivano rumori abbastanza molesti e brutti, che non mi piacevano e poi, questo qua, perché non mi serve poi, aiuto, cos'è? aspetta aia ma ci vado da sola dentro sono coglione ah, sto morendo ma non sto morendo comunque poi dovremmo andare dentro nel nether e andare a prendere tutto il controllo che diceva il coso e il libro che era non bestemmiare, non dire parolacce non uccidere nessuno e come faccio a vivere già c'ho poche c'ho poco da mangiare, c'ho delle carote un po' come mi difendo dai mostri poi nel nether poi non c'erano scritto andare nel nether non me ne fotto perché 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 voglio andarci perché decido io cosa fare, no? faccio io inizia ma staremo un'ora solamente a distruggere cos'era? ma vedete che sto coso ma cos'è? ma non sono rumori di minecraft sì, sono rumori di minecraft perché non credo che nella vita reale ci sono dei non c'era manco di sotto ma come l'ho fatto brutto un po' un po' questa moletta ma credo che qui ci sia il buco ma basta mi sembra un'altra cosa più che uno zombie pure abbastanza diamanti devo farmi quello di diamante però c'ho la netherite non devo smettere di givarmi le cose netherite soprattutto piccone però e basta ti sto sembrando un'altra cosa non sanno fare rumori normali di zombie le cose moleste ma si è messo pure a piovere cosa sentiamo? i mostri che si molestano e in più la pioggia ma la pioggia mi sa che non si sente ma io non ero alzata in tutto ciò cos'è? ma cos'è? ma perchè si sente sta roba sopra ah ecco ma basta mi è sembrato un'altra cosa mi sto ammazzando la gola per dirvelo dio non l'abbiamo mangonizzato porco di ma fanno un culo mi è venuto vicino dalle spalle dalle spalle è incorretto perché si sentono tutta l'altra aia 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 triplo colpo ma sono pazzi questi ho preso una botta da uno uno dall'altra e nell'altra sono caduta ma poi come? c'ho un creeper sopra casa c'ho un creeper sopra cazzo di casa fammi andare sopra non di permettere a distruggermi dove? ah era un tuono ok mi è spaventata per me dov'è? dov'è il bastardo? madonna mia caduto? non basta scendere tanto è caduto non lo credo aia ma sto facendo male oh mi sto facendo male mannaggia a Pippo e a tutta la banda non mi curo poi cosa me la peggio non ho questo un po' di cia buona devo svuotare questo allora si aprono le porte perché ci sono i fantasmi a quanto pare allora qui le ossa c'ho delle ossa qui non le mie poverina metto qui tutta la cosa bella poi diamanti li tengo devo prendere una corta di oro e faccio i cismi posso? per favore non voglio ma qui mi serve la blu la blu la vado a mettere a posto perché mi ricordo che era ma basta c'ho la porta indemoniata oggi ecco basta la porta indemoniata la porta indemoniata del cazzo basta così sì ma almeno ho dormito nel letto gesù cristo ecco lo sapete è ancora sul tetto quel bastardo o lo tiro giù anche se è notte anche se è buio anche se è affanculo dove cazzo è quel bastardo ma dove c'è il bastardo mamma mia era vicino ce l'avevo vicino no non c'è eh no è là è un bastardo facendo avanti e indietro è andata avanti e indietro ma sta facendo fare pure a me guardalo scendi guarda che coglione che creeper coglione no mia sposa la casa ma senti sti cazzi mostri oh ma che è sei tu che fai quei rumori molesti dietro di me ma che cavolo cioè io cammino immaginatevi camminare per strada e sentirsi uno che ti fa in questa maniera alle spalle ma vedi che domanda fa ma che cavolo vado a dare la caccia all'oro di notte no dormo qui così almeno sono sicura che c'ho il punto di regenerazione bene ma dove andavo pure miniero andiamo in questa maniera perché l'altra volta c'era qualcosa li blocco perché è troppo tempo e sono tornata si mi ha ucciso uno zombie mentre lo stavo prendendo basta basta queste cose me le ho fatigliare perché ancora nel land non ci sono andata mannaggia a me non so parlare sono parlando le costolette qui guarda quanto oro che ho preso mamma mia poi ci stacca poi ce n'erano altri ma zombie mi ha ucciso quindi basteranno per farmi l'armatura si ho capito che non mi basta ma lo spazio non è spazio finché lo spazio ma c'è un'altra fornata perché qui non ci posso mettere un anno vaffanculo mium aia mium 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 ciao porcelli andremo con uno di voi non c'è manco un cavallo mi devo arrangere con cioè c'è l'ho il cavallo ma è un cavallo stupido il problema mio che trovo sempre persone no persone animali come me stupide vado a fare un bagno intanto si chiude una porta e si apre un portone e si chiude il portone e si apre una finestra se si apre la finestra vondrano i ladri oppure Pasqualine si butta dal terrazzino che l'ho inventata sul momento però era bella qui non stiamo andando tanto bene sta andando un po' a rilento non mi faccio questo e questo non me le metto ma l'importante è che c'è piedini d'oro a quando ho capito quando ho capito vabbè lo so chi me l'ha detto eh è ovvio quello che gioca con Stefano si ma se qui ci metto un anno mamma mia intanto andiamo a spostare il coso nel nether lo mettiamo non troppo vicino a casa perché se ci va vicino un creeper mi esplode in casa lo mettiamo vediamo in una delle casette vuote che l'ho uscita magari c'è lo faccio sottoterraneo sottoterraneo si sotto no non si dice sottoterraneo non lo so sottoterra comunque qui andiamo qua no niente 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 no non ce lo metto allora nell'altro invece nell'altro ci sono gli animali ecco cosa è successo calmo 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 non siamo manco a cosi minuti secondi minuti tredici minuti qua comunque non ce lo posso mettere perché ci sono gli animali mi esplode eh che dove fa lo metto più alcumolo di cose qui perché qui